Per tutti noi, durante lo studio del mondo cripto, arriva il momento in cui pensiamo di aver iniziato a capire qualcosa che tutto abbia un senso. Solitamente però è proprio quello il momento in cui viene in contatto con la dicitura Layer 2. Alla tua mente però arriva solo una domanda, c'era anche un Layer 1? E via di nuovo alla ricerca infinita di informazioni. Ma in questo video cerchiamo di spiegare cosa sono i Layer 1 e i Layer 2 e che differenza passi tra questi. Cos'è il Layer 1? Layer 1 si riferisce ad On Network di base come ad esempio Bitcoin, BNB, Ceno e Ethereum e alla sua infrastruttura sottostante. Le blockchain che vivono su Layer 1 possono validare e finalizzare le transazioni senza la necessità di un'altra rete. Tuttavia, il problema del Layer 1 è legato, come ben sappiamo, alla scalabilità e velocità nella validazione e l'esecuzione delle transazioni. Il problema comune del Layer 1 è la scalabilità. Bitcoin e tutte le altre grandi blockchain vanno in sofferenza nel momento in cui si verifica un aumento della domanda e vi è una maggiore congestione della rete. Bitcoin tramite la proof of work valida le transazioni ma richiedendo ingenti quantità di risorse computazionali. Al fine di superare queste limitazioni imposte del Layer 1 e della blockchain di Bitcoin, gli sviluppatori stanno lavorando da anni per trovare delle soluzioni, come ad esempio un aumento delle dimensioni del blocco in modo da validare più transazioni nello stesso, modifica al meccanismo di consenso così come l'obiettivo di Ethereum ad arrivare all'Ethereum 2.0 e al proof of stake, implementare lo sharding e sminuzzare tutte le informazioni del database in tabelle più piccole in modo che la scrittura sia più veloce. Vediamo ora cosa sono i Layer 2. Layer 2 è il sistema che consente di superare il problema della scalabilità. La soluzione è una sidechain, ovvero una blockchain parallela su cui viaggiano le transazioni che in ogni momento successivo a quello in cui avvengono verranno scritte su Layer 1 aggiornandolo. In parole semplici è come se prendessi degli appunti e poi con calma li riscrivesti in una bella copia sulla blockchain principale. La prima sidechain fu Lightning Network, nata nel 2015, affianca la blockchain di Bitcoin ed è stata progettata per rendere le transazioni istantanee tra gli utenti della blockchain di Bitcoin. Nonostante le due cene siano scollegate sotto un punto di vista architetturale, effettivamente separate, è tuttavia necessario mantenere la medesima sicurezza su entrambe le cene, in quanto qualsiasi errore avvenga su quella secondaria parallela, può essere riflesso ovviamente anche sulla rete principale. Pure se indici concentrati, principalmente su Bitcoin, pochi secondi fa, le stesse problematiche si verificano anche su Ethereum. Anche il tiro presenta un forte svantaggio dovuto alla scalabilità e agli altissimi costi di commissione per effettuare le transazioni. Come nel caso di Bitcoin con la sua L-Network, i costi di transazioni si riducono notevolmente quando entra in gioco la sidechain. La principale catena parallela per Ethereum si chiama Polygon Matic. Attraverso la rete Polygon viene creato uno smart contract che funge da ponte tra la blockchain Polygon e quella di Ethereum, che consente di trasferire transazioni dalle E1 all'E2 e viceversa. Un caso pratico di applicazione della sidechain Polygon è relativo agli NFT. Oggi, chiunque abbia fatto un giro su OpenSea avrà notato che la differenza principale risiede nel luogo in cui trovano dimora gli NFT e per invogliare un pubblico maggiore a partecipare alle iniziative proposte dagli NFT messi in vendita, si utilizza la sidechain di Polygon, che presenta costi di commissioni più bassi e una maggiore velocità nell'esecuzione delle transazioni. Tuttavia, data la comunicazione tra le due chain, in qualsiasi momento sarà possibile trasferire gli NFT posseduti dalla chain di Polygon a quella di Ethereum. Fintanto che si rimane sul layer 2 di Ethereum, i costi sono bassi e le transazioni sono molto più veloci. Oggi, più che mai, è necessario trovare delle soluzioni che consentano la più ampia applicazione e distribuzione delle criptovalute. L'instabilità del mercato, la volatilità delle valute fiat e la loro gestione da parte delle banche centrali si sta rivelando fallace e talvolta troppo schiava delle emozioni. Per questo, il problema principale che si deve affrontare è la scalabilità. Non è possibile dover attendere fino a 10 minuti o oltre affinché una transazione possa essere considerata conclusa ed è necessario trovare delle soluzioni. Lightning Network e Ethereum, sebbene questo non si appoggia effettivamente al layer 2, sembrano andare nella giusta direzione. Il primo per alleggerire la portata delle transazioni ridendo di fatto il sistema più snello. Il secondo, Ethereum 2.0, facendo leva sul passaggio all'algoritmo di consenso da proof of work a proof of stake, l'introduzione dello sharding e la riduzione dei costi. Solo il futuro, che è fatto di prove e soprattutto anche di errori purtroppo, ci dirà quale sarà stata la strada migliore da intraprendere, lasciando quindi maturare le tecnologie fino ad arrivare al compimento per poi riuscire ad avere una chiara visione dell'insieme. Grazie a tutti.